con il monologo ho notizie importanti da dire per quanto riguarda la società però prima parliamo un attimino di calcio, campionato e tutto quanto allora ragazzi siamo all'antivigilia di questo Monza-Roma la partita più importante dell'anno senza se e senza ma è vero che la più importante è sempre la prossima ma se guardate i scontri diretti che ci sono, la classifica ma anche per dare continuità vera perché se vince a Monza la Roma darebbe una continuità che non ha mai avuto nei precedenti 4-5 anni e sarebbe una trasferta di quelle... cazzo, vince a Monza è una bella trasferta secondo me da vince che non sarà semplice a livello delle formazioni secondo me fino all'ultimo nessuno capirà un cazzo perché secondo me Daniele Terocci avrà molti dubbi sono quasi tutti a disposizione mancherà sicuramente Kasdorp, forse recupererà Llorente e mancherà Abram Abram, notizia, ritornerà in gruppo dopo Monza-Roma dopo Monza-Roma Abram ritornerà in gruppo ma prima di essere convocato ci avranno comunque dalle 2 alle 3 alle 4 settimane è quella un attimino l'area però ritornerà in gruppo la prossima settimana e niente, poi alla fine ieri l'Inter ha vinto perciò ormai la classifica è fatta si può guardare finalmente la classifica perché non c'è questa follia dei recuperi di questa Supercoppa italiana che secondo me è veramente stata un qualcosa di orrenda e adesso con tutti i recuperi comunque la classifica dice Bologna quarto 48 punti Atalanta quinta a 46 punti Roma sesta staccata a 44 punti a 41 punti troviamo al settimo posto la Fiorentina e appagliate all'ottavo nono posto Lazio e Napoli a 40 punti è una classifica dove la guardiamo perché mancano 12 giornate e perché i recuperi ci sono stati e bisogna guardarla però in teoria può essere ancora un sali e scendi che non finisce mai domani te li trovi al quarto posto e magari 3-4 partite dopo 2-3 partite dopo stai a ottavo, al settimo, al sesto, al quinto ecco perché ci vuole continuità di risultati soprattutto e io dico sì prestazione lo sapete malato per gioco però amici miei qui bisogna andare proprio al soto e gestire anche le forze perché ci starà un tour de force con due trasferte la partita in casa col Brighton la trasferta ancora a Londra sempre col Brighton cioè partite veramente toste dove la Roma in teoria secondo me parte anche favorita con tutte perché la Roma è più forte del Monza la Roma è leggermente più forte della Fiorentina la Roma è più forte del Brighton a livello dei uomini di quello che è soprattutto per gli infortuni pesanti che è il Brighton però comunque sono partite difficili vedrete partite di tanta intensità e partite dove veramente capiremo che la vera forza di questa Roma è l'affidabilità di questa rosa di questa squadra da qui al termine della stagione vediamo ragazzi vediamo perché sono sto sentendo moltissimo sta partita moltissimo perché voi pensate che ancora che è finita qua ma non è finita vedo in giro che ancora spuntano come i funghi i murigni e vedrete che aspettano il primo passo falso la prima vedete adesso no? pare tutto bello a Roma aspettano il primo passo falso per di incominciare rompe il cazzo che comunque è una rosa di pippe che che murigno non era colpa sua e che i giocatori e tutte ste rotture dei coglioni qua io invece voglio proprio usare l'ho detto ieri un profilo proprio bassissimo proprio per per evitare tutte ste cose che questi veramente secondo me portano male e andare piano piano lentamente aspettare che questa Roma cresce e magari Daniele Terossi ci faccia sto regalo che sarebbe una cosa clamorosa riportare in Champions League l'AS Roma allora ragazzi adesso vedo parlare di un'altra cosa importante importantissima perché qui mi prendete per matto io lo so tanto dei del 680 tanti e lo vedo anche la notizia che ho dato di chiesa do la notizia di chiesa e me prendono come uno scemo forse tanti non mi conoscono perché può essere pure che tanti non mi conoscono per carità di Dio ma tanti pure sono haters perché chi me conosce ormai anche gli haters lo sanno che quando c'è il carciomercato dove vanno a ascoltare le notizie su sto canale qua da Iale e infatti il carciomercato lo fanno 5-6-700 euro 700 scusate 700 persone live 800 persone live quando è l'estate e sto canale fa il doppio delle visualizzazioni live perché perché è una credibilità sul carciomercato sulle notizie me la so costruita dopo tanti anni però non basta non basta e oggi non è bastato non è bastato che io do la notizia su twitter dove in merito a tutte le voci che stavano uscendo e la Roma la Roma ve lo dico proprio da dentro la Roma faceva uscire invece che la Roma non è in vendita ok infatti dopo 3 o 4 ore Lina fa un'intervista credo sia un'intervista dove dice che la Roma non è in vendita perché non vogliono vendere e tutto quanto perciò questo per far capire questo però non lo dicono gli haters quando parlano di chiesa quando parlano di scamacca sempre quelle stesse cose là scamacca che poi ripeto tutte notizie vere verificate dette dai diretti interessati che poi non sono andate in porto ma il carciomercato è così ragazzi non è che il carciomercato uno si deve anche esporre a dare notizie e tante volte quello che è buono adesso domani non è buono l'ho raccontato 200 volte succedono certe cose incredibili scamacca era un obiettivo della Roma 100% il giocatore aveva confidato a un mio amico ho letto proprio i messaggi che comunque stava mancava un altro po' e sarebbe venuto a Roma poi de contro Roma voleva prendere in prestito de contro è arrivata prima l'Inter e poi Atalanta hanno messo i sordi e sono sorpresi a Roma poteva mettere i sordi e non se lo sono presi ma scamacca vi assicuro che aveva l'accordo già copinto però ritorniamo a noi per quanto riguarda la notizia societaria la Roma fa uscire questo e lo certifica anche l'INA oggi Teleradio Stereo ci diamo la fonte Teleradio Stereo la trasmissione di Marione Teleradio Tokyo da la notizia delle mail per quanto riguarda i dipendenti dove la Roma fa compilare un questionario e chiede un curriculum mi vitae e vi dico che è confermata sta notizia 100% questa ve lo dico ragazzi è vero ai dipendenti della Roma è arrivata questa email cioè questa è incrociata 100% ok che cosa succede tutto fa pensare a una cessione societaria ve lo dico ragazzi se si parla con gente di alto livello no della finanza di chi fa questo questo lavoro qui tutto fa pensare a una cessione societaria solo che la Roma smentisce e dice che non è in vendita e io vi riporto quello che dice la Roma e quello che ho fatto il tweet io oggi pomeriggio però ragazzi vi devo dire un qualcosa di clamoroso nel senso che invece da fonti autorevoli stra autorevoli per quanto riguarda procuratori collegata a un diciamo un importantissimo personaggio che sta dentro al mondo finanziario ma proprio per quanto riguarda i club e dicono che la Roma è in vendita ragazzi dicono che la Roma è in vendita che è in vendita vi do dei dettagli in due studi legali uno a Londra e l'altro a Roma però io non so che dire perché io vi dico che la Roma e ho fatto il tweet fa uscire che non è in vendita io non farò un tweet dove dirò che la Roma è in vendita perché comunque fino a prova contrario a me mi dicono così ma oltretutto questa sera ha parlato Lina però ragazzi vi assicuro che la notizia è arrivata questa sera arriva da persone proprio non importanti di più e tutto quello che fa pensare i movimenti che stanno succedendo a Tricoria sembra una società in vendita oggi ho chiamato il mio amico Cristian che lo sapete lui è collegato a gente potente da finanza solo 24 ore Milano finanza conosce il mondo e io ho raccontato sta cosa qua nei dettagli e lui mi ha detto a lei ma guarda che può essere perché comunque anche se vogliono vendere la Roma se stanno vendendo la Roma non lo dicono in pubblico non lo dicono in pubblico perché innanzitutto per i dipendenti innanzitutto per i giocatori innanzitutto per la squadra deve comunque raggiungere la Champions innanzitutto per anche una questione che so sponsor è una questione anche perché comunque si abbassa il prezzo ragazzi io voglio venire a Roma cioè non lo puoi dire non si può dire sta cosa perciò quello non vuol dire nulla che l'Ina dice no i frecchi non vogliono vendere e hanno un progetto a lungo termine non vuol dire nulla perché potrebbero anche dirlo ma effettivamente fare altro secondo me io ve l'ho detto sarà molto importante il raggiungimento della Champions League e nel mentre anche la situazione stadio ma il raggiungimento della Champions League potrebbe essere molto importante una cosa che mi dicono sempre è che i frecchi potrebbero vendere veramente se loro perdessero i consensi da parte della gente quella è una cosa che li manda al manicomio tipo vengono contestati striscioni roba del genere perché loro su questa roba qui è pure una questione d'immagine lì allora potrebbero vendere a Roma però la notizia è questa ragazzi che comunque la Roma allora capitemi bene capitemi bene perché è importante la società da dentro di Goria teste importanti della società dicono a Roma non è in vendita però c'è un altro mondo dove vi dico non è che mi ha detto il barista parrucchiare quello perché se no di che stiamo a parlare cioè stiamo a andare contro la cosa dalla Roma non si può andare contro la notizia che ho dato io poi non ci possa andare no la notizia che ho dato io anche se capita come il direttore sportivo ma è arrivata la notizia di ricomportare no da una persona importante di più che il DS era già stato fatto e che appena andava via pinto lo annunciavano poi me sono smentito da solo dicendo ragazzi me è arrivata un'altra invece dice proprio tutto il contrario che il DS non è fatto e bisognerà invece proprio aspettare allora regà io ve la dico così come vi viene c'è la Roma fa uscire questo ma importanti personaggi all'interno del mondo del calcio della finanza invece mi dicono che la Roma è in vendita e in mano a due studi legali uno a Roma e uno a Londra monologo terminato allora ragazzi